Infiamme un'abitazione di via Cardinale Dusmet nel popoloso quartiere Santa Flavia a Caltanissetta nella tarda serata di ieri. Immediato e provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco con un'autoscala e diverse squadre che si sono prodigati immediatamente nell'opera di spegnimento dell'incendio, rimuovendo anche una bombola di gas dalla cucina all'ultimo piano dell'edificio. Messo in sicurezza lo stabile dopo la temporanea evacuazione, per le famiglie degli altri piani è stato possibile tornare a casa. Non è stato così per un cinquantenne, l'unico abitante dell'appartamento che ha riportato notevoli danni. Rintracciato poco dopo dalla polizia all'esterno del palazzo, è stato arrestato perché sarebbe stato lui a causare l'incendio. Dopo una perquisizione è stato sequestrato un accendino. All'interno dello stesso appartamento sono stati trovati dei materassi disposti a piramide, a quanto pare per alimentare le fiamme. Ora l'uomo si trova al carcere Malaspina, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie.